Prego, iniziamo. Buonasera mister, Claudio Zuliani e Juventus TV. Due partite in Champions senza subire gol, tre gol segnati in trasferta. Stasera contro i campioni d'Europa, anche con il piacere di difendere. Ha visto abbastanza o vuole vedere ancora qualcos'altro? Innanzitutto è importante portare a casa i tre punti che ci permettono di fare un passetto in avanti a qualificazione. Poi contro i campioni d'Europa sono contento per i ragazzi che hanno fatto una bella prestazione. Serve a tutti, a tutto l'ambiente anche per l'autostima. Contro i campioni d'Europa, contro una squadra che comunque ha forza fisica. La squadra si è difesa in modo ordinato senza subire neanche più di tanto. Abbiamo avuto delle nostre occasioni, bisognava fare meglio in certi momenti quando c'era la possibilità di gestire la palla. Però questa è una vittoria che ci fa capire che comunque per arrivare a certi obiettivi bisogna passare anche attraverso queste partite. Ciao Max, Guido Vacciago, Tutto Sport. Volevo sapere, in parte lo stavi spiegando, ti faccio allargare questo concetto. Cosa rappresenta questa partita per la crescita, credo soprattutto caratteriale, di questa squadra? Questa squadra è una partita importante, perché comunque è una partita di Champions contro i campioni d'Europa. È normale che ora bisogna mettersi da parte questa, perché questa deve essere tra virgolette le prestazioni, non parlo del risultato, la normalità. Perché sabato abbiamo il derby e dobbiamo sistemare un po' la classifica in campionato. Buonasera mister, Dario Ricci, Radio 24, sulle 24 ore. In tanti già la stiamo definendo come una vittoria allegriana. Dopo questo inizio difficile di campionato le suona adesso come un complimento? I complimenti, io di solito li faccio sempre ai ragazzi, perché comunque sono loro che vanno in campo. Stasera hanno fatto in modo ordinato quello che dovevamo fare. Siamo partiti in un certo modo, però avevamo delle difficoltà. Ho messo a fare il centro avanti a Chiesa contro Tiago Silva. Negli spazi potevamo fare meglio. Quando non abbiamo concluso bisognava tenere la palla, bisognava essere più precisi nel momento del possesso palla. È vero che il secondo tempo loro ci hanno un po' più schiacciato. Noi in certe situazioni non siamo riusciti a ripartire, però abbiamo avuto occasione nitide. Già nel primo tempo con Chiesa quando ha tirato, che l'altro poteva mettere in mezzo. L'occasione di Bernardeschi, altre due o tre situazioni dove potevamo sicuramente fare meglio. Buonasera Max, ciao Francesco Rebis, giornale radio. È la partita della svolta? Non ce ne sono svolte. È una partita che ci permette di andare a sei punti e guardare la Champions sicuramente con più ottimismo per cercare di passare il turno. Poi il campionato è un'altra roba. Stasera la squadra ha capito perché quando riesci a avere il possesso palla, avere il dominio del campo, teniamo la palla. Quando hai una squadra che comunque non te lo permette, è normale che ti devi adeguare e devi giocare una partita, chiamiamola difensiva, ma quando fai una difesa così, oggi stranamente è stata la partita dove, a parte l'ultimo minuto dove, se non sbaglio, McKennie doveva andare sul calcio d'angolo invece di mettere l'ora e mezzo, perché poi abbiamo preso contropiede, non mi sono neanche arrabbiato perché la sensazione è che la squadra fosse serena nel difendere. Buonasera, mister Alessandro Antinelli, Rai Sporti. Ieri ci raccontava della grande stagione di Chiesa dell'anno scorso e di quanto fosse difficile per lui alzare l'asticella in questa stagione. Il Chiesa che abbiamo visto stasera è il 100% di Chiesa? Assolutamente no, anche perché per la prima volta Chiesa ha fatto il centro avanti. Io ho dato una mia valutazione a Federico, non quanto potrà diventare bravo, ma soprattutto il ruolo che andrà a fare più avanti. Io credo che lui andrà a fare poi dopo il ruolo di o centro avanti o uno dei due attaccanti. Buonasera, Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. Ieri aveva parlato di questa mezza idea di ribaltare la Juve, no? Abbiamo visto la Juve di questa sera con Bernardeschi, con Chiesa, con Quadrado. In conclusione, esperimento riuscito? Lo rivedremo nelle prossime partite, grazie. Ma non è stato un esperimento. Era la partita che secondo me bisogna giocarla in questo modo. Anche perché, avendo solo Ken in panchina, giocarmela all'inizio, poi magari mi poteva mancare in fondo. E comunque lì in mezzo, dietro due mediane, avevo bisogno di uno più tecnico. E sicuramente Federico Bernardeschi ha fatto una grande partita stasera. Le ultime due domande. Buonasera, Ministro. Buonuncci che attende. Quello che ha impressionato questa sera è stata la concentrazione. La squadra, rispetto a tante altre gare di questa stagione, non ha davvero sbagliato e concesso nulla. È più facile giocare in Champions per via dell'approccio? Cioè questa squadra arriva più facile a queste gare? Bisogna lavorare sulla concentrazione e l'approccio di gare magari con un appeal minore in campionato? Bisogna capire che la Champions è una roba e il campionato è un'altra. Il campionato bisogna stare lì tutti i giorni a lavorare. Perché ogni domenica sono 38 partite e non sono 6 di giorni di Champions. E quindi bisogna avere una continuità che è diversa da quella della Champions. Allora l'ultima domanda perché poi passiamo la parola a Bonucci. Salve mister, Giorgio Musso di Casciamercato.it. Le chiedo se aveva già pensato a De Ligt al posto di Chiellini o è una decisione che ha preso solamente nelle ore precedenti la gara? Grazie. No, no, ero indeciso e poi ho scelto De Ligt. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie. 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 Grazie a tutti.